Oddio, non ce la faccio più. Devo scendere da qui. Devo scendere da qui. Si calmi. Cerchi di controllarsi. Signorina, lasci stare. Si calmi. Si calmi. Si calmi. Si calmi lei e torni a sentire al suo posto. Ci penso io la signora. Si calmi signora. Su, si calmi. Si controlli. Dottor Umac, hai desiderato alternato? Grazie. Andrà tutto bene, vedrà. Cerchi di riprendersi. Torni insieme. Si calmi. Ci penso io. Voglio scendere da qui. Voglio scendere. Potete scendere. Voglio scendere da qui. Aaaaaah!